essere in ascolto delle proprie sensazioni corporee. Ma che cosa vuol dire questo? Nel video in cui parlo della capacità di recepire i segnali dal mondo dell'aldilà o dai mondi invisibili, sottili, parlo della capacità di essere in ascolto delle proprie sensazioni corporee. Ma che cosa vuol dire questo? Quali sono le sensazioni corporee? Le sensazioni corporee sono proprio quelle che ti danno l'idea di calore o di freddo, il senso di pesantezza piuttosto che di leggerezza, un formicolio da qualche parte nel corpo, una tensione, una sensazione di blocco oppure di dover agire. Insomma, sono veramente tante. Sono sensazioni che normalmente noi abbiamo dimenticato ad ascoltare perché fanno parte della nostra dimensione materiale, corporea e animale. Ma in realtà la nostra parte animale è estremamente importante perché è quella che ci mette più in contatto con quei sensi di ragno, come direbbe Spider-Man, che ci permettono di percepire le cose. Ecco, mi è venuto in mente Spider-Man e questo è un esempio estremamente interessante. Lui percepiva i pericoli attraverso questo senso, che era un senso corporeo rappresentato quasi come una vibrazione. È proprio questo, ok? Noi immaginiamo che il contatto con l'aldilà debba venire con vedo il defunto, sento una voce, ma ancora prima di questo arriva attraverso il corpo, attraverso le mie sensazioni che mi fanno dire sono in uno stato di pace, sono in uno stato di benessere, oppure sono a disagio, vorrei scappare. Anche nelle pratiche energetiche, tipo la pranoterapia, quando vai a imparare come fare queste pratiche, ti dicono prova a ascoltare il corpo, potresti sentire una sensazione di calore, di frescura, un formicolio. Quella è l'energia che si muove. Ecco, anche qua bisogna stare attenti però a non condizionarsi, perché se io classifico che quella cosa la percepisco sempre ed assolutamente come un formicolio, se poi non lo sento, allora vado in panico e dico no, non sento niente. In realtà sto bloccando anche in questo caso la mia attenzione sulle mie sensazioni e non mi rendo conto che magari non sento il formicolio, ma ho un'altra sensazione corporea. Ognuno ha il suo modo di recepire e decodificare il mondo energetico, il mondo sottile. È un po' quello che si usa anche quando si dice ho sentito a pelle quella persona e quella persona a pelle mi risuona, oppure è una persona da cui voglio stare lontano. Lì è un ascolto corporeo delle proprie sensazioni.